Colgo l'occasione per ringraziare la società del termo, il presidente in primis, perché non è da tutti avere una società, un presidente che ti vuole fortemente, me e il mio staff, e quindi non ci sono stati nessun tipo di problemi. Per me non sono stati giorni facili, perché ho vissuto una situazione paradossale, surreale, e non era scontato trovare una società, un presidente che aveva la voglia, che ti voleva fortemente, che aveva la voglia e la forza di aspettarti. Sono per me stati attestati di stima, di fiducia, che con tutte le mie forze cercherò di ripagare con il lavoro, con la professionalità, con la serietà, perché questi sono valori che non sono secondi a nessuno, anzi sono per noi un grande stimolo e fonte di motivazione. Coloro che sono rimasti sono giocatori che stimo e che secondo me possono dare tanto, sia in termini di qualità, di quantità, come valori umani proprio sul campo. Quindi sono consapevole che già questi 15-16 contrattizzati che abbiamo sono sicuramente una buona base per intraprendere e iniziare il nostro percorso. No, sicuramente in termini proprio di allenamenti siamo leggermente indietro, però questo non deve essere nessun tipo di alibi. Tocca a noi, a me, al mio staff, cercare di ridurre questo gap, che poi si parla di una settimana, per cercarlo di ridurlo e per non farlo pesare a inizio stagione. Ma questo è motivo di studio quotidiano con me e il mio staff per fare ciò che all'inizio stagione si possa essere pronti ad affrontare le partite. Sappiamo che abbiamo delle situazioni di giocatori che devono uscire, ve le ha già elencate il presidente, lo sapete bene di Cianci, sapete bene di Santoro o di Diachité. Le situazioni poi sono, queste sono dinamiche che io in questo momento non mi interessa nemmeno entrare, se ne occupa la società. Io intanto la mia concentrazione massima è per valutare bene quelli che abbiamo addosso, nel gruppo, e poi fare le valutazioni perché devono arrivare dei calciatori funzionali a quelli che sono i nostri principi di gioco, le nostre idee. Il Termo ha sempre fatto campionati ambiziosi, questo ce lo impone la proprietà, ce lo impone una società storica, perché è da poco che hanno fatto 108 anni, quindi è una società storica. Sicuramente vogliamo ben figurare. Poi per dire quali possano essere quelli che saranno i veri obiettivi, aspettiamo di arrivare a fine mercato, vediamo se ci sarà o non ci sarà la riforma, ma penso ne sa molto di più il mio presidente piuttosto che io. Sicuramente vogliamo fare una squadra ambiziosa, per lo meno per i pochi giorni e per il poco tempo che sono stato a fianco del presidente Iachini non ho mai visto il presidente non essere ambizioso.